Ragazzi, quello che dobbiamo fare oggi è fare un piccone in ferro e una spada in diamante Sono due obiettivi molto difficili da raggiungere Esatto, specialmente la spada Proprio così, amico mio, GabrielS06 E oggi, come vedete, c'è una cosa speciale Siamo... io sono un... Esatto Io sono un delfino E Gabriel invece è una mucca Parla in italiano, per favore, perché nessuno sa niente di quello che stai dicendo tu Eh, va bene, va bene Allora, io ho preso un po' di legno, come vedete Ah, sì? Sì, perché veniamo da molto, molto lontani noi E quindi abbiamo anche un po' iniziato a prendere un po' di legno E sarebbe l'oac wood, wood E quindi adesso prendiamo questo molto bene Tu, Gabriel, ovviamente fai tutte le tue cose E adesso, Gabriel, sai cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a prendere un attimo Una caverna, insomma, andiamo a trovarla Eh, dobbiamo andare a cercare Però nel deserto è abbastanza semplice Nel deserto? Ma guarda che anche qua c'è una caverna in realtà Ah, meno male E guarda che c'è anche un po' di carolio Quindi io ti consiglio assolutamente di prendere il carbone Guarda, ti faccio Lo prendo, lo prendo Eh, e fammi anche subito una torcia Ti faccio il piccone Te, te, tieni là Ok, molto bene, molto bene Ma mi sta piacendo come sta andando questa situazione Esatto, sta iniziando bene Speriamo, dai, almeno No, non mi fa scavare No, in che senso non ti fa scavare? È difficile quando sono una mucca Eh, lo so, lo so È difficile Allora dammi almeno il picco Per carità Devo, devo farmi un altro piccone Sì, però Adesso ti disguysi subito Immediatamente in qualcos'altro Perché non è che posso farti fare una cosa Disguysati in un ape E stai in prima persona Grazie Va bene, va bene Così Esatto, proprio così Ah, così è molto più semplice Sì, è molto più semplice Esatto Proprio per quello che ti ho fatto disguysare in questa cosa Adesso posso fare anche le mie torce Andare a trovare un po' di ferro Ah, venite ragazzi Andiamo insieme a trovare un po' di Di ver... Ovviamente tu, Gabriele, adesso cos'è che vai? Ti metto le torce No, prendi un po' di pietra, stupido Perché se no Ah, va bene, va bene Se no poi dopo io con i ragazzi Cosa faccio? Cioè nel senso Con il popolo Eh, non riusciamo a trovare A prendere il ferro Se no Se non metti Se non prendi un po' di pietra Perché ovviamente tutti sanno che Il ferro si può prendere solamente Col piccone di pietra E anche superiori Giusto? Sì, giusto Esatto, esatto No, perché magari mi sbaglio Però Io non mi sbaglio mai Quindi insomma Non scherzo ragazzi Sì, certo, che scherzo Figuriamoci se no mi sbaglio mai Qua non c'è nessuna caverna Andiamo Proviamo ad andare di qua Dove? Di qua dove? Non ti vedo Di qua, andiamo avanti No, sei un'ape Dove sei? Non ti vedo Torno indietro Eccomi, eccomi Ah, ti ho trovato Stupido, ignorante Puzzone, scorreggione Che non sei altro Ma sei sicuro? No, no Perché il tuo istinto Che ti stai dicendo questa cosa? Qua c'è una caverna Ma il tuo istinto è magico Il tuo istinto, Gabri Ma sono andato a caso Sei magico Cioè proprio Ho finito le torce Ma grande Veramente Wow Prendi il carbone Dai, si sale adesso Ma non ti preoccupare Che adesso troveremo Un altro istinto No, qua si continua Gabri Vedi, stupido, ignorante Ah sì? Sì, però devi farmi altre torce E altro carbone Assolutamente Se no Se no qua io non posso andare avanti Ne ho quattro Ok, grazie mille Di questi quattro di carbone Li apprezzerò Se tu me li dai Però, mannaggia Dove sei finito? E sono qua avanti Ma sei difficile Se io dico di darmi il carbone Perché non me lo dai? E l'ho finito Perché con un carbone Si fanno quattro torce Allora, qua devi dire Che hai quattro torce Perché io ti stavo parlando Del carbone Ignorante Ah, no Io avevo detto quattro torce Eh, vabbè Ci stiamo capendo molto bene ragazzi Guardate Eh, sì Adesso ho quattro di carbone Ok, grazie mille Meno male che ho quattro di carbone Guarda Senza questi quattro di carbone Non so cosa facevo Ma non stiamo trovando niente Ah, ho trovato il ferro Sei un po' ignorante Perché non riesci a prendere le cose Uno solo Ma dai Uno Ma mi prendono per il sedere Dobbiamo prenderne tre E guardate che Entro la fine di questo video Dobbiamo concludere Ho finito Ho finito le torce Vabbè Ne ho io Come facciamo a prendere anche i diamanti Gabri? Dobbiamo trovare Una piramide del deserto Io ho l'idea del secolanne È vero Ce ne saranno qua, no? Sì Perché siamo vicini Al deserto Esattamente Cioè ci sarà Sì però Se il ferro c'è magari Sarebbe anche un po' più opportuno Eh Ho trovato un po' di ferro Trovato? Ah, meno male Per favore dimmi che ce ne sono Ok Sì, sì Ce ne sono di più Bene Grazie, 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 grazie Perfetto L'importante adesso È che tu Faccio la fornace Sì esatto Dobbiamo finire Dobbiamo finire Dobbiamo finire Quanto tempo abbiamo? Siamo a Quattro Cinque minuti in realtà Siamo a cinque minuti di registrazione A mezza siamo Altri cinque minuti ragazzi È molto importante cercare di concludere questa cosa E nel deserto io sono sicuro Al cento per cento che ci siano le piramidi Anche perché poi qua Non è che siamo Sì, sì Ma per forza ci sono Sì esatto Ma tu ti sei leggermente addormentato forse No, no, no Te lo sto proprio dicendo Ti sei leggermente addormentato Chiudiamo questa musica del mistero Dimmi Eh, scusa, scusa Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Gabri? Cosa hai fatto? Forza dimmi? Non volevo Ok, mi sa che è successa una cosa strana da lui Cioè nel senso Sì Eh, mi sa che c'è uno strano mostro ragazzi Dovete sapere questa cosa Che a volte i mostri purtroppo esistono Sempre Non a volte Sempre Sempre infatti E andiamo forza Perché non abbiamo altro tempo da perdere Dobbiamo andare a prendere Quella cavolo di spada Dobbiamo per forza cercare di prenderla Io posso usare il legno No, anzi Usiamo il piccone che abbiamo appena fatto Che scava così bene Guardate Ma è qua davanti la piramide Gabri C'è Ma sì? Sì Dove sei? Non ti vedo Perché non mi segui? Gabri Sai come fa a finire se tu non mi segui? Vero Gabri? Ho trovato Eccomi, eccomi Ah, bene Meno male Ok, perfetto Allora direi di entrare da qua sopra Perché da qua sopra è la cosa più efficiente da fare Eh, non vedo però Ok, perfetto No Gabri Però se sono un delfino Non ci vedo mentre cado Attento, attento Tranquillo Tranquillo che Duny saprà Uh Che bene Ci sono due diamanti Ci sono? Ho beccato proprio la cesta in cui c'erano due diamanti No vabbè Ma quindi abbiamo fatto Cioè nel senso E infatti abbiamo Cioè prima dobbiamo fare la spada Sì esatto In effetti prima dobbiamo fare la spada A meno che adesso qualcosa non mi uccida No infatti Speriamo di no E come Allora Prima di tutto Aiuto ragazzi Impanicando Impanicazione Ce l'ho io Ce l'ho io Ok Sì abbiamo craftato 30.000 ceste Vediamo se riusciamo a fare la spada E noi fatti Ok Ok Perfettamente Perfetto Abbiamo fatto Abbiamo concluso tutti e due gli obiettivi In sette minuti Siamo stati perfetti E però adesso cosa facciamo Direi di aggiungere un altro obiettivo Un ultimo obiettivo Quello di Prendere i cetrioloni di mare Che quelli a te piacciono Un po' a tutti Ma qua c'è il mare No però c'è il fiume caro mio Gabri Se non l'hai visto Giusto? Non c'è il fiume? Sì mi sembra di sì Però mi sembra che ci sono solo nel mare Ma sai cosa possiamo fare? Un duello fra ape e E io non ho la spada Fra ape e delfino Eh niente No Non devi Cioè nel senso Io Ma perché non va? E allora E infatti pure a me non fa mettere Abbiamo un problema Gabri Dobbiamo salire in un qualche modo Forza vieni qua fuori Perché dobbiamo fare il duello Fra ape e maia Possiamo anche fare qua no? E delfino No assolutamente Cioè troppo poco spazio Non va bene Forza Forza mio Prode avventuriero Insomma Che schifo Forza Ok perfetto Andiamo Eh dove però Eh dobbiamo andare di sopra Mannaggia Questi piramidi Che ogni volta Ma chi è che le sotterra con la sabbia? Cioè nel senso Ci sarà qualcuno Che prende la para Su minecraft E Ho sentito l'ape Ok perfetto E sotterra appunto le piramidi Allora Fra 3 2 1 Inizierà un duello Molto magico Via Via Guarda che difficile Cioè nel senso Non è una roba da scherzare Anche perché devo picchiare Abri dove sei finito Eh sono all'inizio Ti puoi tippare da me Perché adesso c'è il round 2 Ah pure? Certamente Certamente E molto Eh devi starmi davanti Brutto imbecino Ah scusami Scusami No Vincerò io Insomma è un po' più difficile di così Comunque guarda che non ti sto vedendo Mannaggia a te Forza muori Vincerò io Io No io devo vincere Io Io Eh lo sapevo Tanto Eh esatto Tanto io sono Ma c'è pure un round 3 Sì 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 Forza forza Eh ma tanto hai vinto comunque tu Ultimi Beh in effetti hai ragione Vabbè allora niente Abbiamo finito Gabri Stato bello Stato bello Adesso mi han disguiso Perché And Perfetto Adesso sono rinunato ad unis Guarda che Guarda Oh che bello Molto bene Scusa è stata una cosa un po' brutta Che ho appena fatto Eh sì sì Eh niente ragazzi Vi chiedo scusa Mi raccomando ricordatevi di lasciare like E di scrivere se sono bello Oppure non nei commenti Eh anche Potete anche dirmi che non sono bello Tanto non mi offendo E soprattutto potete mettere Questo segno qua brutto Che insomma un po' brutto Avete capito Perché così mi fate capire Che non avete voglia di scrivere E niente Noi ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi Ciao